Poco tempo fa ho visto un video in spagnolo Non ricordo bene la pagina, comunque metterò il collocamento nella descrizione di questo video Il video che ho visto era in spagnolo, mo dirò più o meno le stesse cose in italiano Ogni tanto qualcuno mi chiede se io ho la fidanzata Ah, è una roba nel mera fastidio Finché mi chiedono se io sono fidanzato vorrei pure accettare Ma mi chiedono se io ho la fidanzata Cioè stiamo nel 2016 E c'è ancora tutti a dir che All'uomo gli deve piacere la donna e viceversa Poi vabbè Sì ci sarebbe a fare un discorso lungo Poi vabbè sì A me mi piacevano le donne Poi Cioè almeno le preferisco Ecco Comunque sì ogni tanto Cioè quando parlo di un mio amico Un certo punto mi ha chiesto se il mio amico c'ha la fidanzata Se proprio il mio amico mi ha chiesto se la mia amica c'ha il fidanzato Oh ma di che stiamo a parlare Sta cosa mi infastidisce altamente Mi irrita Vabbè Ci teniamo per di sta cosa Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione